I poteri della Guardia di Finanza sono definiti da legislatore al decreto legislativo 68 del 2001, un articolo più particolare per quanto riguarda il fenomeno in questione. Questo decreto è un decreto di riordino dei compiti e delle attribuzioni date dall'autorità di governo di finanza e per il settore di esamina abbiamo le attività di prevenzione, ricerca e repressione in materia di interazione ai diritti d'autore, nuovi eventi, marchi e anche con riferimento all'esercizio di tali diritti e allo sfruttamento economico che consegue la possibilità di esercitare queste attribuzioni. Sintetizzando, quali possono essere le tre macro aree di intervento della Guardia di Finanza? In primis potremmo dire tutela del consumatore, quindi la verifica, sotto l'aspetto ovviamente più che altro repressivo, del rispetto delle normative di sicurezza dei prodotti e di regolare certificazione delle caratteristiche comunitarie che devono avere i prodotti per essere immessi in consumo, prodotti e immessi in consumo conseguentemente. La tutela del marchio industriale, di conseguenza verificare se sussista l'ipotesi di contrappazione, alterazione di marchi, brevetti, disegni industriali, disegni e quant'altro che siano stati già oggetti di registrazione. Registrazione che avviene presso qualsiasi camera di commercio oppure l'ufficio italiano Marchi Brevetti che altro non è la direzione del Ministero dello Sviluppo Economico che nell'argomento sostanzialmente è il collettore unico e l'organo di indirizzo principale dell'attività anche della Guardia di Finanza, oltre che di altri organi sia di polizia sia agenzie che sono interessate appunto dal fenomeno. Da ultimo, non per importanza sicuramente, la tutela del settore del made in Italy e della filiera agroalimentare nazionale e quindi anche comunitaria. Ho diviso la funzione in tre ambiti, più che altro perché tecnicamente diversi sono gli oggetti che vengono tutelati dalle singole normative, ma questi tre ambiti hanno una funzione trasversale. Va da sé infatti che la tutela del consumatore è sì argomento prevalente e prioritario della sicurezza dei prodotti, ma anche un marchio contraffatto viene, come dire, il prodotto è costruito con componenti o altro che vanno a lesione della salute dei consumatori. Di conseguenza per quanto sia tutelato il diritto di inventiva privato, l'interesse della Guardia di Finanza è anche tutelare la collettività. Si tutela il singolo ma la collettività in sé. Questo avviene sia per l'agroalimentare, quindi non è solo un problema che un prodotto viene spacciato come italiano e in quanto tale danneggia l'industria reale italiana, ma può essere anche pericoloso visitamente nelle sue componenti. Uguale anche il Made in Italy. Il Made in Italy tecnicamente si riflette ed è apponibile nel momento in cui un prodotto viene completamente costruito, assemblato, oppure una fase importante della sua costruzione o definizione avviene sul territorio italiano secondo le normative vigenti in Italia per quel tipo di prodotto. Ma di converso, costruito, assemblato all'estero, potrebbe avere caratteristiche che nuociano alla qualità piuttosto che alle prescrizioni di legge e quindi di conseguenza anche al consumatore che lo dovesse fare l'utilizzo. Sicurezza dei prodotti? Beh, va da sé che un prodotto che, come dire, dovesse perseguire le caratteristiche attribuite dal legislatore per la costruzione, l'assemblaggio, l'emissione e il consumo di quel prodotto, tutela il consumatore che si affida di conseguenza a determinate caratteristiche indicate sul prodotto, insomma che eserciscono l'aderenza normativa rispetto alle prescritte normative sull'argomento, ma tutela anche il costruttore rispetto alle situazioni di concorrenza sveale. Di conseguenza sono tre ambiti, ma la tutela è trasversale, tutela dell'imprenditoria onesta, soprattutto tutela del consumatore. Quali sono le tecniche di indagine che ha la Guardia di Finanza per disvelare i fenomeni di illecito in materia di contraffazione, ma anche di sicurezza prodotti? Beh, innanzitutto importantissimo è l'attività di intelligence. L'attività di intelligence si riflette sia in attività proprie della Guardia di Finanza come consultazioni di fonti aperte, si citava prima ad esempio un social network sul quale tranquillamente si possono trovare situazioni fuoriere di commercio di macchie contraffatti. Oltre ciò c'è anche lo sviluppo delle informazioni acquisibili dalle banche dati. Da ultimo, che riveste anche un quesito che era stato proposto prima da uno di voi, la possibilità di avere una collaborazione attiva rispetto alle aziende che abbiano subito una lesione rispetto a un diritto di privatimento industriale e quindi di inventimento industriale. Importantissimo poi è il controllo del territorio, ma da sé che un'azienda che opera nell'illecito ha interesse a pubblicizzare il proprio prodotto, ma non la propria esistenza, preferisce agire nell'opera, questo è ovvio. Conoscendo il territorio sappiamo dove poter intervenire, non tanto alla foce, quindi quando il prodotto è già sul mercato, ma in fase preventiva, di conseguenza già in fase di produzione della merce contraffatta. È ovvio che io posso sequestrare 10.000 borse, ma se poi l'obbificio rimane in piedi, domani le troverò a 13.000. Nel momento in cui dovessi perseguire chi è che poi le vendita a dettaglio, l'indomani probabilmente troverò un'altra persona preposta alla vendita a dettaglio. Di conseguenza l'interesse nel controllo del territorio è intervenire su tutta la concatenazione dei fenomeni che poi costituisce l'attività del falso. Dalla fase più esplicita e più visibile alla fase invece produttiva e più nascosta. Controllo del territorio che si sviluppa attraverso varie dinamiche, l'attività di osservazione, il vendinamento degli indiziati e l'avvio di attività di iniziativa, di sequestro e riferimento del responsabile dell'autorità giudiziaria, che poi è l'attività tipica che viene svolta da tutte le forze di polizia coinvolte nell'attività repressiva del fenomeno della contraffazione. In talune casistiche, dove si può dire, si riesce già a evidenziare che ci può essere anche un'attività di bagazzinaggio piuttosto che di produzione di merci contraffatte, c'è poi la possibilità di adottare sistemi di vigilanza, potremmo dire a distanza. Il più famoso è un apparato veicolare GPS, in quel caso installato a porno di un veicolo oppure anche all'interno di un borsolo o quant'altro attraverso personale specializzato si riesce a risalire all'esatta ubicazione di quelli che sono poi i magazzini, oppure gli obbifici dove vengono rispettivamente contenuti i prodotti da smerciare, impacchettati per essere spediti tramite posti e agenzia di spedizione, oppure direttamente dove trovi i macchinari che attrano le punzonature, le stampigliature a caldo o che comunque dal prodotto neutro, che giustamente diceva la dottoressa, il mio precedente relatore, appunto dal prodotto neutro conferiscono poi il marchio contraffatto alterato.